Questo è un altro dei segnali, ne arrivano ormai in modo ricorrente purtroppo, che il fatto che parecchi anni fa si fosse impostato e si fosse portato anche sostanzialmente alla decisione finale il percorso per costruire un nuovo ospedale nel giro di qualche anno, l'avessimo fatto, noi saremmo adesso avanti e potremmo affrontare anche questi fenomeni di degrado, insomma di addirittura difficoltà statiche come il caso di Piedettia, potremmo affrontarli in maniera molto molto più attenta. Quindi massima attenzione all'allarme dei medici, massima attenzione per la sicurezza e anche però urgenza di rapidamente percorrere le strade per fare in modo che il nuovo ospedale abbia una realizzazione il più rapida possibile.